E come puoi notare siamo una squadra molto unita ed è stato il nostro punto di borsa. Siamo in A1! E niente, ti faccio così, ti faccio vedere qui. Niente, ringrazio la mia squadra perché siamo in A1. Non l'abbiamo fatta, quindi dai ragazzi. Beh, assolutamente vogliamo anche la coppa. Ammettiamo che siamo venute qui con l'obiettivo di vincere perché ce lo meritiamo e perché ci siamo allenate, ci siamo fatto sacrifici, ci siamo impegnate dalla dieta e quindi domani. Per quanto saremo stanche, esausti e quant'altro, però sicuramente ci la metteremo in un'altra. Poi non si vedrà se ce la faremo, ma comunque non è la mia squadra come ho fatto fino adesso. Abbiamo fatto davvero un buon campionato, siamo riuscite a vincere quasi tutte le partite. Questa è l'ultima partita, purtroppo non si è riuscita a vincere, ma l'abbiamo giocato davvero bene per una gran parte del tempo. Poi alla fine loro hanno tenuto molto di più, sono riuscite a correre fino all'ultimo e ci hanno superato. Però è davvero una buona squadra e si meritano di andare in finale. Noi siamo riuscite a tenere un buon campionato in territorio. Vabbè, ci sarà la prossima.